Il mondo delle assicurazioni, anche se esso stesso è stato impattato dalla pandemia, ha fatto e può fare molto per il Paese. Noi siamo a fianco e siamo sempre stati vicini alle persone, a fianco di famiglie, delle imprese e dello Stato stesso. Ci saremo a maggior ragione per il futuro attraverso gli assi portanti della nostra mission. Da una parte continueremo a investire nell'economia reale, chiediamo solo che vengano allentati alcuni vincoli che faciliteranno questo compito e nello stesso tempo daremo protezione, come facciamo da sempre, per tutti i rischi che fronteggiamo e per i bisogni che anche la pandemia ha fatto emergere.